Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale. Oggi si parla di diversificazione, diversificare i nostri investimenti ma in un modo un po' particolare, ovvero diversificando gli investimenti investendo in oggetti fisici. Questi che possono essere un investimento, possono essere un modo di diversificare il nostro portafoglio, però cerchiamo di capirlo nel video di oggi andando ad analizzare vantaggi e svantaggi di questi. Diciamo che la diversificazione in oggetti da un punto di vista degli investimenti è un processo che è iniziato da poco, notando magari che alcuni oggetti assumono valore, aumentano il loro valore nel corso del tempo. Facendo qualche esempio possiamo pensare ad esempio a chi colleziona scarpe, no? A chi colleziona scarpe naica, a chi colleziona orologi, a chi colleziona carte, no? Carte collezionabili tipo Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Oppure a chi colleziona opere d'arte. Insomma, un metodo per diversificare il proprio portafoglio. Quindi ha senso considerare la collezione di determinati oggetti una diversificazione del proprio portafoglio? Cerchiamo di capirlo nel video di oggi e cerchiamo di capirlo con questa slide che ho preparato per voi. Eccoci qua, investire in oggetti. Cerchiamo ora di capire i vantaggi e svantaggi di investire in oggetti e cosa conviene effettivamente fare facendo tutte le considerazioni del caso. Partiamo subito andando a vedere quali sono i vantaggi di investire in oggetti. Allora, primo vantaggio importante è una diversificazione totale dai mercati finanziari. Cioè, se io vado a investire in oggetti ho una diversificazione totale rispetto ai mercati finanziari. Se io mi concentro sui mercati finanziari e vado a comprare obbligazioni, vado a comprare azioni, vado a comprare, cosa ne so, qualche ETF su cui faccio qualche piano d'accumulo. Insomma, alla fine, a un certo punto, succede qualche evento particolare, qualche evento macroeconomico che mi fa crollare un po' tutto il portafoglio. La mia diversificazione, anche se fatta magari per paese, anche se fatta per settore, conta poco. No? Perché c'è qualche evento esogeno che mi fa crollare tutto. Allora cosa succede? Succede che la mia diversificazione fatta sui mercati finanziari non conta più di tanto. Se invece io questa diversificazione vado a farla su una parte di quello che investo, vado a metterlo magari su degli oggetti, quindi magari compro le carte di Pokémon, compro delle opere d'arte, compro degli orologi, Allora in quel caso lì ho diversificato, perché se ci pensate, durante il Covid scendeva tutto, no? Evento incredibile scendeva tutto, diversifica come vuoi, ma comunque crolla tutto. Cosa succede? Le carte Pokémon non perdono di valore. I Rolex non perdono di valore. Quindi quella diversificazione lì mi avrebbe permesso di tenere abbastanza stabile il mio portafoglio, no? In un momento così di crisi. Quindi il fatto di questo tipo di diversificazione è sicuramente un vantaggio importante per un investitore che deve tenere in considerazione se decide di investire in oggetti. Secondo vantaggio importante degli investimenti in oggetti è gratificazione. Se io ho le mie azioni, guardo il mio portafoglio azionario, cosa vedo? Vedo solo scritto Apple, Amazon, poi dopo vedo scritto tutto il nome delle mie aziende e via dicendo. No? Ma non è che ho tanto gratificazione, vedo solo una lista di nomi e quelle sono le mie azioni. Zero gratificazione. Se invece io sono un appassionato di opere d'arte e ho una collezione di quadri in casa, io tutti i giorni quei quadri me li vado a guardare. Tutti i giorni mi va a dire, oh che bello quel quadro, guarda sto dettaglio e via dicendo. No? Oppure ho una collezione di carte Pokémon, le mie 50 carte Pokémon, sicuramente me le godo di più rispetto alle mie 50 azioni Apple. Perché le 50 azioni Apple non le tocco, non le vedo, non ci faccio niente, sta solo lì, ce l'ho solo scritto sul monitor, hai 50 azioni Apple. Le carte Pokémon invece sono lì, me le guardo, me le tocco e insomma è più bello da avere. E questa gratificazione è sicuramente un punto in più degli investimenti in oggetti. Ho un orologio, me lo provo. E quindi sicuramente investire in oggetti, chi investe in oggetti, chi pensa a diversificare il suo portafoglio, investire in oggetti, questi sono due vantaggi importanti. Una diversificazione totale dai mercati finanziari e una gratificazione nel fatto di avere quei determinati oggetti. Visto però la parte buona dell'investire in oggetti, è il momento di andare a vedere gli svantaggi. Andiamo a vedere quali sono gli svantaggi di investire in oggettistica. Beh, primo svantaggio. Eccoci qua. Rischio di mercato. Non è detto, signori, che la carta Pokémon che oggi vale 150-200 euro, domani valga 150-200 euro. C'è il rischio di mercato. Perché? Perché se da domani a nessuno interessano più le carte dei Pokémon, signori, qua, il valore di tutte le carte Pokémon si azzera velocemente. E questo è un rischio da tenere in considerazione. Se gli orologi passano di moda e nessuno vuole più gli orologi, e a nessuno gliene frega più niente, perché non si utilizzano più? E signori, il rischio di mercato si azzera. Cioè, c'è un rischio di mercato importante e il valore dell'orologio si azzera. No? Il valore della mia collezione, dei miei investimenti in oggetti si azzera. E questo è importante da considerare. Perché passa, magari la passione, passa la moda di quel determinato prodotto che io ho collezionato, che io apprezzo, passa la moda a livello sociale, e di conseguenza il valore si abbassa vertiginosamente, velocemente. Perché? Se tutti iniziano a vendere le loro carte di Pokémon, nessuno le compra. Perché a nessuno gliene frega più niente dei Pokémon. Perché è la nostra generazione. Magari gliene frega qualcosa. No? Ma magari la generazione di nuovi ragazzi, di nuovi ragazzi non gliene frega più niente. Quindi quando io sarò vecchio, dei Pokémon non frega niente a nessuno. Questo è un elemento da tenere in considerazione. Magari i quadri che oggi valgono tanto, con l'intelligenza artificiale, e si fanno delle nuove opere d'arte fatte dai computer, che piacciono molto di più, e i quadri dipinti a mano non valgono più niente. Chi lo sa? Non lo so. Però è un rischio di mercato. No? Che uno si prende nel momento in cui investe in oggetti. E quindi tanta volatilità nei suoi investimenti ci può essere. Questo è un elemento da tenere in considerazione. Poi, altra cosa, altro svantaggio dell'investire in oggetti. Beh, signori, sicuramente sono da rivendere. Cioè, se io voglio vendere le mie azioni, clicco vendi, le ho vendute. Finito. Non devo star lì a fare chissà che riccioli. Clicco vendi, azioni vendute. Se invece però io ho un orologio, devo trovare uno che me lo compri. Se ho un quadro, devo trovare uno interessato che sia disposto magari a darmi 10.000 euro per il mio quadro. Ma non è detto che trovi quella persona. Non è detto che trovi una persona disposta a pagare 5.000 euro il mio quadro, la mia carta Pokémon, le mie scarpe. E quindi, c'è questa componente da tenere in considerazione. Che a parte la fatica di dover trovare la persona, di dover spedire la merce, c'è anche il discorso che questa persona non è facile da trovare. Perché se io adesso urlo dalla finestra, oh questa carta Pokémon, la volete? Non vi è in la fila sotto casa. Perché per molta gente non valgono niente. Se lo faccio vedere, magari un signore di 70-80 anni vede una carta Pokémon, vede una figurina. E quindi c'è questo problema, che rivenderle non è banale. Mentre rivendere un'azione è un secondo. Altro elemento importante, svantaggi importanti, è il rischio di furto. Uno ci deve pensare. Se investe in oggetti, hai il rischio di furto. A differenza di investire sui mercati finanziari. Le mie azioni non me le tocca nessuno. Il mio pack su un ETF non me lo tocca nessuno. Non rischio che me lo rubino. Invece ho un rischio reale che qualcuno possa rubare i miei orologi. Io ho la collezione di orologi in casa, qualcuno mi entra in casa e mi ruba 5 orologi. È finito, eh? Qualcuno mi ruba le mie 50 figurine dei Pokémon. Qualcuno mi ruba la mia collezione di scarpe. La mia collezione di vini. Eh, signori, me l'ha rubata a fine. Non c'è mica scritto il mio nome su quella carta Pokémon. Non c'è mica scritto il mio nome su quell'orologio. E questo è un furto. È fine. Ho perso il valore. Investimento va a zero. Vero, posso assicurare i miei beni, posso fare delle assicurazioni, che parte che costano. Però, insomma, è un rischio da tenere in considerazione, da mettere sul tavolo quando si parla dell'investire in oggetti. Altro svantaggio dell'investire in oggetti. Vedete come già gli svantaggi vanno a superare i vantaggi. Altro svantaggio. Si deteriorano. Eh, sì, signori. Investimenti in oggetti portano, comunque, al rischio di deterioramento. Cioè, immaginiamo solo una bottiglia di vino. Oggi compro una bottiglia di vino che costa tanti soldi e la tengo a casa, la tengo bene e tutto. Pian piano, però, a parte che il vino dopo un po' diventa aceto, cosa succede? Succede che l'etichetta si rovina. Per quanto io possa essere bravo, l'etichetta è fatta di carta. Pian piano si rovina quell'etichetta. E quindi nel corso degli anni mi si deteriora il bene. E quindi, da quel punto di vista, rischia di perdere di valore. Il mio orologio, mentre so lì, che mentre mi sto godendo il mio orologio, che so lì, che me lo sto provando, così mi cade e mi si scheggia. Porca miseria, deteriorato l'orologio, perso il valore dell'orologio. No? È un rischio che c'è, uno svantaggio che c'è, quando si investe in oggetti. Tutti svantaggi che sono da prendere in considerazione. No? Perché comunque il rischio di mercato ce l'hai. Come hai il rischio di mercato, cioè, io ho il rischio di mercato che la gente non voglia più le mie carte Pokémon, perché nessuno ne frega niente, c'è anche il rischio di mercato che nessuno utilizzi più Amazon. E quindi le mie azioni Amazon si svalutino. Ma le azioni Amazon le rivendi in un secondo. No? E tac, vendute, va bene, dai, prendo altro, fa niente, ho preso una botta, fa lo stesso. Le carte Pokémon rischio di non rivenderle a nessuno, me le tengo lì e pace. No? Quindi attenzione, è un rischio importante. Poi, altro svantaggio da tenere in considerazione è il seguente, ovvero concentrazione di settore. Chi colleziona oggetti, gli appassionati, cosa fanno? Vanno a collezionare magari tutti, cioè, tipo, io. Collezionista A colleziona orologi, Rolex, Patrick Filippe e via dicendo. Collezionista B colleziona quadri, perché è appassionato di quadri. Collezionista C colleziona carte Pokémon. È difficile trovare un collezionista X che vada a collezionare sia le carte dei Pokémon, sia gli orologi, sia i quadri, sia le scarpe, sia le bottiglie di vino, sia le auto. Insomma, perché è difficile trovarlo? Perché sono delle passioni. E quindi non si riesce a trovare un collezionista tale per cui collezioni tutto. E quindi il singolo collezionista che investe in oggetti è un collezionista iperconcentrato, ipersettoriale. Quindi, sì, si diversifica totalmente dai mercati finanziari, ma ha una concentrazione settoriale importantissima che rischia di svalutare da un giorno all'altro tutta la collezione che ha. Esempio, sempre dei... prendiamo le scarpe Nike. Oggi tutti usano le Nike, o comunque la maggior parte delle persone usa le Nike, e le Nike, quelle da collezione, hanno un valore importante. Domani esce un nuovo brand che fa scarpe e tutti vogliono quelle scarpe lì, nessuno vuole più le scarpe Nike. C'è il rischio di mercato, sì, è vero, è anche un rischio di mercato, ma io in caso ho solo Nike, perché ho solo collezionato quel tipo di scarpe, perché ho fatto solo quel tipo di investimenti in oggetti. Quindi, sì, c'è il rischio di mercato che a cosa si svaluti, ma io sono iperconcentrato, quindi aumento questo rischio di mercato in maniera esponenziale. No? Mentre magari un portafoglio è ben diversificato, no? C'ho un po' di... c'ho un piano d'accumulo su... va bene, l'S&P 500, c'ho però le mie azioni Amazon, però magari allo stesso tempo ho anche azioni di altri brand. Non ho solo azioni Amazon, perché magari c'ho Meta, c'ho Netflix, c'ho altra roba, e di conseguenza sono più diversificati. Invece concentro tutto, c'ho la concentrazione di settore, che se da un giorno all'altro le Nike non le vuole più nessuno, perso tutto, fine. Io c'ho il rischio di mercato, che è che Nike si svaluti, ma io ho una concentrazione totale, e questo aumenta il rischio di mercato, aumenta i miei svantaggi di investire in oggetti. Quindi, tutti gli elementi questi da prendere in considerazione, guardate quanti svantaggi ci sono. Mentre i vantaggi sono un vantaggio un po' per un discorso di gratificazione, quindi in realtà è solo un vantaggio psicologico, non è un reale vantaggio, no? La gratificazione, cioè, se ti piace, sì, ok, ce l'hai, ma non ragioni, quando investi non ragioni, ah, mi dà gratificazione questo oggetto. Lo prendi, se ti piace. Chiaramente è meglio comprare la bottiglia di vino, tenerla per un discorso di investimento, piuttosto che aprirla e berla, no? Pago 2000 euro una bottiglia di vino, se me la bevo è finito. Invece, se me la tengo così, chiaramente è meglio. Ma valutarlo come investimento, vedete che gli svantaggi sono molto di più dei vantaggi. L'unico vantaggio reale è la diversificazione totale dei mercati finanziari. Perché se da un giorno all'altro i mercati finanziari vanno a farsi benedire, tu comunque la tua collezione di carte Pokémon ce l'hai ancora e magari ha ancora un valore. Allora, visto questo, cosa mi consiglio di dire? Qual è il mio ragionamento su investire in oggetti? È il seguente. Secondo me, guardando vantaggi e svantaggi, al massimo un 5% del portafoglio è solo se si ha una grande passione. Cioè, io sono un grande appassionato di carte Pokémon. Mi piacciono da matti, perché è la mia infanzia, perché è di qua, di là, bene. Allora, io voglio comprare le carte Pokémon, però quando compro le carte Pokémon devo ragionare in un'ottica diversa. Cioè, io ho il mio portafoglio, immaginiamo di avere 100.000 euro. Ecco qua, 100k, molto bene. Io ho 100.000 euro, come li diversifico? Beh, allora, qui faccio tutto il mio lavoro col 50%, magari mi tengo un 20% di liquido, quindi di cash. Liquido. Ok, ecco qua, liquido. Poi dopo magari faccio un 30%, me lo metto in ETF, no? Magari anche un po' diversificati, magari si compra un ETF, come dicevamo, su S&P 500, magari se ne compra uno sull'Europa. Insomma, si diversifica il discorso ETF. Mi faccio magari un altro 40% diviso tra azioni e obbligazioni, no? Quindi 20 mettiamo in azioni, 20 in obbligazioni. E poi dopo, come vedete, una volta che ho collocato bene il mio portafoglio, che ho fatto il portafoglio, poi dopo ognuno di questi se li divide come vuole, no? Magari si può mettere anche del gold, quindi magari la parte azionale fa il 10% e si mette un 10% in gold. Si può anche fare questa cosa, si riduce un po' l'ETF, comunque vabbè, questo è un altro discorso. E poi dopo mi tengo un 5% ad alto rischio, magari. Quindi alto rischio, che possono essere crypto, che possono essere, cosa ne so, small cap, no? E ci metto un 5% e poi dopo, io che sono un grandissimo appassionato di carte Pokémon, mi metto qui a comprare i Pokémon. Ecco qua, in questo 5%. Ma dedico solo questo e solo se sono un grande appassionato, solo se effettivamente è una cosa che mi piace. Però tutto il resto è collocato in modo diverso. Dopo questi ve li collocate, non vi paro a voi, però tutto il resto... Questo è solo un esempio, però solo il 5%. Quindi su 100.000 euro, 5.000 euro. Se ho 100.000 euro e penso di investire in orologi, e l'orologio che costa meno costa 15.000 euro, no, non posso permettermi di andare a fare quell'investimento, perché è un investimento con troppi svantaggi, troppo rischioso. Se ho 100.000 euro e voglio investire in oggetti, beh, forse posso comprare qualche quadro, ci posso stare dentro, posso comprare le carte Pokémon, ci posso stare dentro, posso comprare qualche paio di scarpe, sicuramente non compro le auto. Perché il mio budget è troppo basso. Non posso pensare di andare a investire più di un 5% del mio portafoglio in oggetti, perché ho troppi svantaggi rispetto ai reali vantaggi che mi danno questi prodotti, perché poi è quello che sono. Quindi, detto ciò, e analizzato vantaggi e svantaggi di investire in oggetti, per quanto riguarda il video di oggi è tutto, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo visto all'interno di questo video. Se il video vi è piaciuto, un bel like di supporto. Sono curioso di sapere se voi avete investito in oggetti, magari nel corso della vostra vita, e se vi hanno portato, magari, delle soddisfazioni. Per quanto riguarda il video di oggi è tutto, vi ringrazio per la visualizzazione, e noi ci vediamo per i prossimi video, sempre qui sul canale.